Viene da lontano questa medaglia d'oro, questo titolo di campioni d'Europa. Sì, lontano è stato poi un attimo alla fine. L'anno scorso vi ho lasciato dicendo che era stato un mondiale in cui non eravamo riusciti a accordare bene i suoni, che però c'era la stoffa, c'era tutto, compreso i coglioni. Prego! Quando si vince, vale. Non c'è storia. Quest'anno abbiamo accordato i suoni, hanno tirato fuori quello che potevano e molto di più. Non c'è altro che ringraziarle per tutto quello che hanno fatto, questo gruppo di ragazze, ma anche tutte quelle che non sono state nell'ultimo europeo, ma tutte quelle che hanno contribuito a formare questa squadra. Vanno ringraziate tutte. Tutti hanno fatto grossi sacrifici, veramente. Ascolta, quanto peso ti è sceso dalle spalle quando Eva Trevese ha battuto la casa con i due punti? È stata una trasferta abbastanza, diciamo, a livello di tanta pressione, ma molto leggera. Io mi sono sentita non stanca e questa era una buona sensazione che io avevo perché loro riuscivano a fare tutto molto facilmente. Non è che sapevo che si vincesse, però sapevo che stavamo bene, che c'eravamo, eravamo lì sul pezzo e il peso c'era, ma non lo sentivo. Abbiamo anche un premio speciale per Marina Centrone per i suoi, non diciamo quanti, anni. Tanti, comunque dieci. Festeggiamo i dieci anni alla guida della nazionale, non è la tua età. Non è il mio compleanno. Prima procediamo con la medaglia simbolica per il titolo di campione d'Europa, poi procediamo anche con il premio speciale e il riconoscimento della FIBS a Marina Centrone che dà oltre dieci anni alla guida della nazionale. Grazie.